E' il dovere che il centro del centrodestra si rimetta in gioco, perché una coalizione che, come qui in Liguria, governa bene il paese, in Lombardia, la regione Liguria, la Lombardia, il Veneto, senza di centrodestra, senza il centro, diventa una proposta politica che non è in grado di governare. Ma la responsabilità non è della Lega, la responsabilità è del centro o dei moderati che devono sapere rinnovarsi. Liguria Popolare e noi con l'Italia a livello nazionale hanno questo compito, ci auguriamo che anche Forza Italia capisca che questo è anche il suo compito, altrimenti rischieremo la scomparsa della proposta meddorata nel centrodestra, cosa che non ci possiamo permettere. Quindi guardando alle regionali e poi più avanti anche alle politiche, il compito del centro quindi ce l'è quello di, uso un termine che hanno usato altri, ma per semplificare, di rottamare comunque tutto quello, una classe dirigente che ormai probabilmente ha dato tutto quello che doveva. No, il compito del centro non è rottamare, il compito del centro è ricostruire, rimetterci in gioco, riaprirsi a energie nuove, prendere anche l'esperienza di quelli che hanno avuto un ruolo importante in questi anni di cambiamento della regione o del paese, ma far capire che o che noi capiamo le sfide nuove e dimostriamo come valori come il merito, la responsabilità, la concretezza, la serietà, la sussidiarietà, famiglia, sono risposte concrete e adeguate alle sfide moderne oppure saremo costretti ad essere fuori. Io credo che Liguria Popolare, per esempio, che Liguria ha avuto il coraggio di mettersi in gioco in prima persona, di non aspettare che altri risolversero i problemi, di decidere di capire che la strada del dialogo con la società civile, del rimettere in gioco le migliori risorse fosse la strada migliore, non abbiamo chiesto niente a nessuno, abbiamo messo la nostra faccia e ci presenteremo le prossime elezioni regionali con Liguria Popolare, con le tante liste civiche che hanno aderito a Liguria Popolare e credo che daremo il nostro contributo fondamentale a far rivincere Totti e a far sì che il centro-destra sia effettivamente un centro-destra. Grazie. Grazie mille.